L'ex ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha inaugurato ieri sera in Sant'Ilario la campagna elettorale del popolo della libertà. Secondo Sacconi il partito democratico è il nemico numero uno da battere. Noi vogliamo evitare all'Italia una pericolosa deriva in termini di declino economico, sociale ma anche civile quale potrebbe ragionevolmente essere prodotto da un governo della sinistra, da un governo guidato da bersaglio.